Oggi sera, stava meglio di me di sera. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se si può, si va da dentro, vero? Escezionale. Ma chi è l'artista tra voi? Siete tutti insieme. Un po' a tutti. Grazie a tutti. È gratis. Non è finita? Non è finita? Questo è il momento più dolce della giornata. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 grazie grazie ecco che è arrivata wow oh la la no è un peccato rovinare oh mamma mia che è la torre ma qui ce n'è anche per domani vero? ma qui ce n'è anche per domani? ero io per davanti di chiamarti si ma ero con chi è mamma mia ma qui sono un po' a prendere ma qui ne prenderò qui non c'è no ma io qui mi si vuole a portare ah è qua ti devi portare e non si può partire ma qui non si può partire ma che è l'anima ma che è pronto e non si può partire la metà domani e non si può partire vittoria vittoria e non si può partire cosa vuole gloria non si può partire Grazie a tutti. 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 adesso, a tutti. 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 ciao. a tutti. 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 a tutti.